Era appena venuto alla luce ma un difetto alla parete addominale non gli avrebbe consentito di vivere più di 15 minuti. L'intervento immediato dell'equip medica del reparto di chirurgia dell'ospedale di Sapri gli ha consentito di rimanere al mondo. Il fatto è accaduto giovedì mattina quando nel reparto di ginecologia del presidio Saprese una donna ha partorito il bambino che portava in grembo da nove mesi. Tutto è filato liscio fino a quando i medici appena dopo il parto hanno accertato che il piccolo aveva un difetto agli organi interni. L'intestino era al di fuori della cavità addominale e quindi veniva strozzato da un anello che impediva la circolazione del sangue. Se non si fosse intervenuto subito il piccolo sarebbe deceduto nel giro di pochi minuti. Immediatamente è stato chiesto un intervento d'urgenza al reparto di chirurgia che nonostante non sia specializzato in operazioni per neonati è intervenuto con successo. L'equip del primario Paolo Calabria ha riposizionato il pacchetto intestinale e il piccolo non ha smesso di vivere. Ora è ricoverato all'ospedale di Salerno presso il reparto di rianimazione neonatale. Le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione. Una bella soddisfazione per la chirurgia di Sapri che per la prima volta si è trovata ad operare un bebè. Ma più di tutti ad essere felici oggi sono i genitori del piccolo, una coppia del golfo di Policastro che giovedì mattina nel giro di poche ore ha gioito per la nascita del figlio, pianto per il timore di perderlo dopo pochi minuti e ha sorriso quando il piccolo è uscito dalla sala operatoria con la sua vita da vivere.